Esdra, capitolo primo. I regni della terra, ed egli mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, sia il suo Dio con lui, e salga a Gerusalemme che è in Giuda, ed edifichi la casa dell'Eterno dell'Iddio d'Israele e dell'Iddio che è a Gerusalemme. Tutti quelli che rimangono ancora del popolo dell'Eterno in qualunque luogo dimorino, la gente del luogo li assista con argento, con oro e con doni in natura, bestiame, aggiungendovi offerte volontarie per la casa dell'Iddio che è a Gerusalemme. Allora i capi famiglia di Giuda e di Beniamino, i sacerdoti e i leviti, tutti quelli ai quali Dio aveva destato lo spirito, si levarono per andare a costruire la casa dell'Eterno che è a Gerusalemme, e tutti i loro vicini d'ogni intorno li fornirono d'oggetti, d'argento, d'oro, di doni in natura, di bestiame, di cose preziose, oltre a tutte le offerte volontarie. Il re Ciro trasse fuori gli utensili della casa dell'Eterno che Nabucadnezzar aveva portati via da Gerusalemme e posti nella casa del suo Dio. Ciro, re di Persia, li fece ritirare per mezzo di Miradetti, il tesoriere, e li consignò a Shesh Bazzar, principe di Giuda. Ecco nel numero. Trenta bacini d'oro, mille bacini d'argento, ventinove coltelli, trenta coppe d'oro, quattrocentodieci coppe d'argento di secondo ordine, mille altri utensili, e tutti gli oggetti d'oro e d'argento erano in numero di cinquemilaquattrocento. Shesh Bazzar li portò tutti quando gli esuli furono ricondotti da Babilonia a Gerusalemme. ESDRA CAPITOLO SECONDO Questi sono gli uomini della provincia che tornarono dalla cattività, quelli che Nabucadnezzar, re di Babilonia, aveva menati schiavi a Babilonia, e che tornarono a Gerusalemme e in Giuda, ognuno nella sua città. Essi vennero con Zorobabel, Yeshua, Neemia, Saraiya, Reelaia, Mardoccheo, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, Bahanna, Numero degli uomini del popolo di Israele Figlioli di Paros, 2872 Figlioli di Cefatia, 372 Figlioli di Arà, 775 Figlioli di Pat Moab, discendenti di Yeshua e di Joab, 2812 Figlioli di Elam, 1254 Figlioli di Zattù, 945 Figlioli di Zaccai, 760 Figlioli di Bani, 642 Figlioli di Bai, 623 Figlioli di Azgad, 1222 Figlioli di Adonikam, 666 Figlioli di Bigvai, 2056 Figlioli di Adin, 454 Figlioli di Ater della famiglia di Esachia, 98 Figlioli di Bezai, 323 Figlioli di Yorath, 112 Figlioli di Ashum, 223 Figlioli di Ghibar, 95 Figlioli di Bethlehem, 123 Gli uomini di Netofa, 56 Gli uomini di Anatot, 128 Gli uomini di Azamavet, 42 Gli uomini di Kiriat Arim, di Kefira e di Berot, 743 Gli uomini di Rama, di Geba, 621 Gli uomini di Mikmas, 122 Gli uomini di Betel e di Ai, 223 I figlioli di Nebo, 52 I figlioli di Magbish, 156 I figlioli d'un altro Elam, 1244 I figlioli di Arim, 320 I figlioli di Lod, di Adin e Dono, 725 I figlioli di Gerico, 345 I figlioli di Senea, 3630 I figlioli di Senea, 3730 I figlioli di Gesùa, 973 I figlioli di Imel, 1052 I figlioli di Paschur, 1247 I figlioli di Arim, 1017 I figlioli di Esùa e di Kadmiel, discendenti di Odavia, 74 Cantori Figlioli di Asaf, 128 Figlioli dei Portinai, figlioli di Shalom Figlioli di Eter, figlioli di Talmon Figlioli di Acub, figlioli di Attia Figlioli di Shobai, in tutto 139 Nettineei, i figlioli di Sia, i figlioli di Asufa, i figlioli di Tabaoth, i figlioli di Keros, i figlioli di Sia, i figlioli di Padom, i figlioli di Lebana, i figlioli di Agaba, i figlioli di Acub, i figlioli di Agab, i figlioli di Selmalai, i figlioli di Anam, i figlioli di Gidel, i figlioli di Gahar, i figlioli di Re Ahia, i figlioli di Re Tzin, i figlioli di Nekoda, i figlioli di Gazam, i figlioli di Uca, i figlioli di Pasea, i figlioli di Betai, i figlioli di Asna, i figlioli di Meunuhim, i figlioli di Nefuzim, i figlioli di Bakuk, i figlioli di Akufa, i figlioli di Arur, i figlioli di Basluth, i figlioli di Mehida, i figlioli di Kharsha, i figlioli di Barkos, i figlioli di Sisera, i figlioli di Tamath, i figlioli di Nettizia, i figlioli di Atifa, i figlioli dei servi di Salomone, i figlioli di Sotai, i figlioli di Sofret, i figlioli di Peruda, i figlioli di Yahalla, i figlioli di Darkon, i figlioli di Gilded, i figlioli di Scefatia, i figlioli di Atil, i figlioli di Pocet, Azz-Sebaim, i figlioli Dami, tutti i netinei e i figlioli e i servi di Salomone ammontavano a 392. Ed ecco quelli che tornarono da Tel-Malet e da Tel-Arsha e da Karub-Adad, da Imel, che non poterono indicare la loro casa patriarcale e la loro discendenza per provare che erano di Israele. I figlioli di Delaia, i figlioli di Tobia, i figlioli di Necoda, in tutto 642. Ed i tre figlioli dei sacerdoti, i figlioli di Abbaia, i figlioli di Akkots, i figlioli di Barzilai, che aveva preso per moglie una delle figliole di Barzilai e Galadita, e fu chiamato con loro nome. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono. Furon quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare cose santissime, finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio con l'Urim e con il Tumim. La radunanza, tutt'assieme, noverava 42.360 persone, senza contare i loro servi, le loro serve, che ammontavano a 7.347. Avevano pure 200 cantori e cantrici. Avevano 70136 cavalli, 245 muli, 435 cammelli e 6.720 asini. Alcuni dei capi famiglia, come furono giunti alla Cassa dell'Eterno che è a Gerusalemme, offrirono dei doni volontari per la Cassa di Dio, per rimetterla in pie sul luogo di prima. Dettero al tesoro dell'opera, secondo i loro mezzi, 61.000 d'ariche d'oro, 5.000 mine d'argento e 100 vesti sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, la gente del popolo, i cantori, i portunai, i netinei, si stabilirono nelle loro città, e tutti gli israeliti nelle città rispettive. ESDRA CAPITOLO TERSO Or come fu giunto il settimo mese e i figlioli d'Israele si furono stabiliti nelle loro città, il popolo si adunò come un sol uomo a Gerusalemme. Allora Ieshua, figliolo di Jotzadak, coi suoi fratelli sacerdoti, e Zorobabel, figliolo di Sheatiel, coi suoi fratelli, si levarono e costruirono l'altare dell'Iddio d'Israele per offrirvi sopra degli olocausti, come scritto nella legge di Mosè, uomo di Dio. Ristabilirono l'altare sulle sue basi, benché avessero paura a motivo dei popoli delle terre vicine, e vi offrirono sopra olocausti all'Eterno, gli olocausti del mattino e della sera. E celebrarono la festa delle capanne nel modo che è scritto, e offersero giorno per giorno olocausti secondo il numero prescritto per ciascun giorno, e poi offersero l'olocausto perpetuo, gli olocausti dei novi luni, e di tutte le solennità sacre all'Eterno, e quelle di chiunque faceva qualche offerta volontaria all'Eterno. Dal primo giorno del settimo mese cominciarono a offrire olocausti all'Eterno, ma le fondamenta del tempo dell'Eterno non erano ancora state gettate, e dietro del denaro agli scarpellini e agli ignaiuoli, ed è vivere delle bivande e dell'olio ai sidoni e ai tiri, perché portassero per mare sino a Iafo delle gname di cedro del Libano, secondo la concessione che Ciro, re di Persia, aveva loro fatta. Il secondo anno del loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zorobabel, figliolo di Shealtier, Yeshua, figliolo di Josadak, con gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti, e tutti quelli che erano tornati dalla cattività a Gerusalemme, si misero all'opera, e incaricarono i leviti, dai vent'anni in su, di dirigere i lavori della casa dell'Eterno. E Yeshua, coi suoi fratelli e i suoi figlioli, Kadmiel, coi suoi figlioli e figlioli di Giuda, si presentarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio. Lo stesso fecero i figlioli di Anadat, coi loro figlioli e coi loro fratelli leviti. E quando i costruttori gettarono le fondamenta del Tempio dell'Eterno, vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe, e i leviti figlioli di Asaf con dei cembali per lodare l'Eterno secondo le direzioni date da Davide, re di Israele. Ed essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando l'Eterno perché egli è buono e perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. E tutto il popolo mandava alti gridi di gioia, lodando l'Eterno perché si erano gettate le fondamenti della casa dell'Eterno. E molti sacerdoti, leviti e capi di famiglie anziani che avevano veduto la prima casa, piangevano ad alta voce mentre si gettavano le fondamenti della nuova casa. Molti altri invece alzavano le loro voci gridando per l'allegrezza, in guisa che non si poteva discernere il rumore delle grida d'allegrezza da quello del pianto del popolo, perché il popolo mandava di gran gridi e il rumore se ne udiva da lontano. Esdra, capitolo quarto Or i nemici di Giuda e di Beniamino, avendo saputo che quelli che erano stati in cattività edificavano un tempio all'Eterno all'Edio di Israele, s'avvicinarono a Zorobabele e ai capi di famiglia e dissero loro, «Noi edificheremo con voi, già che, come voi, noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo dei sacrifici dal tempo di Esa Aradon, re di Assilia, che ci fece salire qui?» Ma Zorobabele, Yeshua e gli altri capi di famiglia di Israele risposero loro, «Non spetta a voi ed a noi insieme di edificare una casa al nostro Dio, noi soli la edificheremo all'Eterno, all'Idio di Israele, come Ciro, re di Persia, ce l'ha comandato». Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giude e a molestarlo per impedirli di fabbricare e a comprare dei consiglieri per frustare il suo divisamento, e questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia, e sotto il regno d'Assuero, al principio del suo regno, scrissero un'accusa contro gli abitanti di Giude e di Gerusalemme. Poi, al tempo d'Artaserse, Bislam, Mitredat, Tabael e gli altri loro colleghi, scrissero ad Artaserse, re di Persia. La lettera era scritta in caratteri aramaici e tradotta in aramaico, e Rehum il governatore e Shimsai il segretario scrissero una lettera contro Gerusalemme al re Artaserse in questi termini. La data Rehum il governatore, Shimsai il segretario e gli altri loro colleghi di Dim, Dapharsetathc, di Talpeo, Dapharas, Derek, di Babilonia, di Susa, di Dea, de Lam, e gli altri popoli che il grande e illustre Osnapal ha trasportati e stabiliti nella città di Samaria, e gli altri che stanno di là dal fiume, ecc. Ecco la copia della lettera che inviarono al re Artaserse, i tuoi servi, la gente d'oltre il fiume, ecc. Sappia il re che i giudei che sono partiti da te e giunti fra noi a Gerusalemme riedificano la città ribella e malvagia, ne rialzano le mura e ne restaurano le fondamenta. Sappia dunque il re che se questa città si riedifica e se le sue mura si rialzano, essi non pagheranno più né tributo né imposta né pedaggio e il tesoro dei re ne avrà a soffrire. Or siccome noi mangiamo il sale del palazzo e non ci sembra conveniente lo stare a vedere il danno del re, mandiamo al re questa informazione. Si facciano delle ricerche nel libro delle memorie dei tuoi padri e nei libri delle memorie troverai e apprenderai che questa città è una città ribelle perniciosa al re e a province e che fin dai tempi antichi vi si sono fatte delle sedizioni per queste ragioni la città è stata distrutta. Noi facciamo sapere al re che se questa città si riedifica e le sue mura si rialzano, tu non avrai più possessi da questo lato del fiume. Il re mandò questa risposta a Reum, il governatore e a Shimsai, il segretario e al resto dei loro colleghi che stavano a Samaria e altrove di là dal fiume. Salute, eccetera. La lettera che ci avete mandata è stata esattamente letta in mia presenza ed io ho dato ordine di far delle ricerche e si è trovato che fin dai tempi antichi cotesta città è insorta contro ai re e vi sono fatte delle sedizioni e delle rivolte. Vi sono stati a Gerusalemme dei re potenti che signoreggiarono su tutto il paese che è di là dal fiume e ai quali si pagavano tributi, imposti e pedaggi. Date dunque ordine che questa gente sospenda i lavori e che cotesta città non si riedifichi prima che ordine ne sia dato da me. E badate di non essere negligenti in questo, onde il danno non venga a crescere in pregiudizio dei re. Non appena la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum e di Shimsai il segretario e dei loro colleghi essi andarono in fretta a Gerusalemme dai giudei e li obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario re di Persia. Esdra capitolo quinto Or i profeti a Geo e Zaccaria figliuolo di Iddo profetarono nel nome dell'Iddio di Israele ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme. Allora Zorubabel figliuolo di Shealtier e Ieshua figliuolo di Chosadak si levarono e ricominciarono a edificare la casa di Dio a Gerusalemme e con essi erano i profeti di Dio che li assecondavano. In quel medesimo tempo giunsero da loro Trattenai governatore d'oltre il fiume Shetar Boznai e i loro colleghi e parlarono loro così. Chi vi ha dato ordine di edificare questa casa e di rialzare queste mura? Poi aggiunsero Quali sono i nomi degli uomini che costruirono quest'edifizio? Ma sugli anziani dei giudei vegliava l'occhio del loro Dio e quelli non li fecero cessare i lavori finché la cosa non fosse stata sottoposta a Dario e da lui fosse giunta una risposta in proposito. Copia della lettera mandata al re Dario da Tattenai il governatore d'oltre il fiume e da Shetar Boznai e dai suoi colleghi agli affarsacchiti che erano oltre il fiume. Gli inviarono un rapporto così concepito. Al re Dario perfetta salute. Sappia il re che noi siamo andati nella provincia di Giuda alla casa del grandio. Essa si costruisce con blocchi di pietra e nelle pareti si interpongono dei legnami. L'opera viene fatta con cura e progredisce nelle loro mani. Noi abbiamo interrogato quegli anziani e abbiamo parlato loro così. Chi va dato ordine di edificare questa casa e di rialzare queste mura? Ed abbiamo anche domandato loro i loro nomi per notificarteli mettendo in scritto i nomi degli uomini che stanno loro a capo. E questa è la risposta che ci hanno data. Noi siamo i servi dell'iddio del cielo e della terra e riedifichiamo la casa che era stata edificata già molti anni fa. Un gran re di Israele l'aveva edificata e compiuta. Ma avendo i nostri padri provocato a dire l'iddio del cielo e Dio li diede in mano di Nabucar Nazar re di Babilonia il caldeo il quale distrusse questa casa e menò il popolo in cattività a Babilonia. Ma il primo anno di Sciro re di Babilonia il re Ciro die ordine che questa casa di Dio fosse riedificata e il re Ciro trasse pure dal tempio di Babilonia gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio che Nebuchadnezzar aveva portati via dal tempio di Gerusalemme e trasportati nel tempio di Babilonia li fece consegnare a uno chiamato Shebatzar che gli aveva fatto governatore e gli disse prendi questi utensili va e riportali nel tempio di Gerusalemme e la casa di Dio sia riedificata dov'era allora lo stesso Shebatzar venne e gettò le fondamente della casa di Dio a Gerusalemme da quel tempo fino ad ora essa è in costruzione ma non è ancora finita ordunque se così piaccia al re si faccia delle ricerche nella casa dei tesori del re di Babilonia per accertare se sia stato un ordine dato dal re Ciro per la costruzione di questa casa di Gerusalemme e ci trasmetta il re il suo beneplacito a questo riguardo Ezra capitolo sesto allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche nella casa degli archivi dove erano riposti i tesori di Babilonia e nel castello di Ameta che era nella provincia di Media e si trovò un rotolo nel quale stava scritto così memoria il primo anno del re Ciro il re Ciro ha pubblicato questo editto concernente la casa di Dio in Gerusalemme la casa sia riedificata per essere un luogo dove si offrono dei sacrifici e le fondamente che se ne gettano siano solide abbia sessanta cubiti d'altezza sessanta cubiti di larghezza tre ordini di blocchi di pietra e un ordine di travatura nuova e la spesa sia pagata dalla casa reale e inoltre gli utensili d'oro e d'argento della casa di Dio che Nebuchadnezzar aveva tratti dal tempio di Gerusalemme trasportati a Babilonia siano restituiti e riportati al tempio di Gerusalemme nel luogo dove erano prima e posti nella casa di Dio or dunque tu t'attenai governatore d'oltre il fiume e tu Shetar Boznai e voi loro colleghi da Farsac e siete di là dal fiume statevene lontani da quel luogo lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio il governatore dei giudei e gli anziani dei giudei riedificano quella casa di Dio nel sito di prima e questo è l'ordine che io do relativamente al vostro modo di procedere verso quegli anziani dei giudei nella costruzione della casa di Dio le spese detratte dall'entrata del re provenienti dai tributi oltre il fiume siano puntualmente pagate a quegli uomini affinché i lavori non siano interrotti e le cose necessarie per gli olocausti all'iddio dei cieli vitelli montoni agnelli e frumento e sale e vino e olio siano forniti ai sacerdoti di Gerusalemme a loro richiesta giorno per giorno e senza fallo affinché offrono sacrifici di odore soave all'iddio dei cieli e preghino per la vita del re e dei suoi figlioli e questo è pure l'ordine che io do se qualcuno contraverrà a questo decreto si tragga dalla casa di lui una trave la si rizzi vi sia egli inchiodato sopra e la sua casa per questo motivo diventi un letamaio l'iddio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome distrugga ogni re ed ogni popolo che stendesse la mano per trasredire la mia parole per distruggere la casa di Dio che è in Gerusalemme io Dario ho emanato questo decreto si è eseguito con ogni prontezza allora Tattenai governatore d'oltre il fiume Shetar Boznai e loro colleghi poiché il re Dario l'aveva così decretato eseguirono puntualmente i suoi ordini e gli anziani dei giudei tirarono innanzi e fecero progredire la fabbrica aiutati dalle parole spirate del profeta Ageo e di Zaccaria figliolo Dido e finirono i loro lavori di costruzione secondo il comandamento dell'Idio di Israele e secondo gli ordini di Ciro di Dario e d'Artasers e re di Persia e la casa fu finita il terzo giorno del mese da Dar il sesto anno del regno di Dario e i figlioli di Israele i sacerdoti i leviti e gli altri reduci della cattività celebrarono con gioia la dedicazione di questa casa di Dio e per la dedicazione di questa casa di Dio offrirono cento giovenchi duecento montoni quattrocento agnelli e come sacrificio per il peccato per tutto Israele dodici capri secondo il numero delle tribù di Israele e stabilirono i sacerdoti secondo le loro classi e i leviti secondo le divisioni per il servizio di Dio a Gerusalemme come sta scritto nel libro di Mosè poi i reduci della cattività celebrarono la Pasqua il quattordicesimo giorno del primo mese poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati come se non fossero stati che un sol uomo tutti erano puri e immolarono la Pasqua per tutti i reduci della cattività per i sacerdoti loro fratelli e per loro stessi così i figlioli di Israele che erano tornati dalla cattività e tutti quelli che si erano separati dall'impurità della gente del paese e che si unirono a loro per cercare l'eterno lì Dio di Israele mangiarono la Pasqua e celebrarono con gioia la festa degli azimi per sette giorni perché l'eterno li aveva rallegrati e aveva piegato in loro favore il cuore del re d'Assiria in modo da fortificare le loro mani nell'opera della casa di Dio dell'iddio di Israele Esdra capitolo settimo or dopo queste cose sotto il regno d'Arta Cersei re di Persia giunse Esdra figliolo di Seraia figliolo di Azzaria figliolo di Ilchia figliolo di Shalom figliolo di Tzadog figliolo da Hitub figliolo da Maria figliolo da Zaria figliolo di Mariot figliolo di Zeraia figliolo di Huzzi figliolo di Bucchi figliolo di Abishua figliolo di Fineas figliolo di Elezar figliolo di Aronne il sommo sacerdote quest'Esdra veniva da Babilonia era uno scriba versato nella legge di Mosè data dall'Eterno dalle Dio di Israele e siccome la mano dell'Eterno del suo Dio era su lui il re gli concedette tutto quello che domandò e alcuni dei figlioli di Israele e alcuni dei sacerdoti delle viti dei cantori dei portinai e dei netinei saliron pure con lui a Gerusalemme il settimo anno del re Artaserse Esdra giunse a Gerusalemme il quinto mese nel settimo anno del re infatti aveva fissata la partenza da Babilonia per il primo giorno del primo mese e arrivò a Gerusalemme il primo giorno del quinto mese assistito dalla benefica mano del suo Dio poiché Esdra aveva applicato il cuore allo studio ed alla pratica della legge dell'Eterno e ad insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine ora ecco la copia della lettera data dal re a Starse a Esdra sacerdote e scriva scriva versato nei comandamenti e nelle leggi dati dell'Eterno a Israele Artaserse re dei re a Esdra sacerdote scriva versato nella legge di Dio del cielo eccetera da me è decretato che nel mio regno chiunque del popolo di Israele dei suoi sacerdoti e dei leviti sarà disposto a partire con te per Gerusalemme vada pure giacché tu sei mandato da parte del re e dai suoi sette consiglieri per informarti in Giude e in Gerusalemme come vi sia osservata la legge del tuo Dio la quale tu hai nelle mani e per portare l'argento e l'oro che il re e i suoi consiglieri hanno volenterosamente offerto all'Idio di Israele la cui dimora è a Gerusalemme e tutto l'argento e l'oro che troverai in tutta la provincia di Babilonia e i doni volontari fatti dal popolo e dai sacerdoti per la casa del loro Dio a Gerusalemme tu avrai quindi cura di comprare con questo denaro dei giovenchi dei montoni degli agnelli e ciò che occorre per le relative oblazioni e libazioni e li offrirai sull'altare della casa del vostro Dio che è a Gerusalemme dal rimanente dell'argento e dell'oro farete tu e i tuoi fratelli quel che meglio vi parrà conformandovi alla volontà del vostro Dio quanto agli utensili che ti sono dati per il servizio della casa dell'Idio tuo rimettili dove all'Idio di Gerusalemme e qualunque altra spesa ti occorrerà a fare per la casa del tuo Dio ne trarrai l'ammontare dal tesoro della casa reale io il re Arta Cerse do ordine a tutti i tesorieri d'oltre il fiume di consegnare senza dilazione a Estra sacerdote e scriba versato nella legge dell'Idio del cielo tutto quello che vi chiederà fino a cento talenti d'argento a cento cori di grano a cento bati di vino a cento bati d'olio e una quantità illimitata di sale tutto quello che è comandato dall'Idio del cielo sia puntualmente fatto per la casa dell'Idio del cielo perché l'ira di Dio dovrebbe ella venire sopra il regno e sopra il re e i suoi figlioli rifacciano inoltre sapere che non è lescito a nessuno esigere alcun tributo imposto o pedaggio da alcuno dei sacerdoti dei leviti dei cantori dei portinai dei netinei e dei servi di questa casa di Dio e tu Esra secondo la sapienza di cui il tuo Dio ti ha dato stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio fatele voi conoscere a chi non le conosce e chiunque non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re farete pronto giustizia punendolo con la morte o col bando con la multa pecunaria o col carcere benedetto sia l'eterno il Dio dei nostri padri che ha così disposto il cuore del re ad onorare la casa dell'eterno a Gerusalemme e che m'ha conciliato la benevolenza del re e dei suoi consiglieri e di tutti i suoi potenti capi ed io fortificato dalla mano dell'eterno del mio Dio che era su me radunai i capi di Israele perché partissero Omeco Esdra capitolo ottavo questi sono i capi delle case patriarcali e la lista genealogica di quelli che tornarono Omeco da Babilonia sotto il regno d'Artaserse dei figlioli di Fineas Gershon dei figlioli di Tamar Daniele dei figlioli di Davide Attus dei figlioli di Secania dei figlioli di Paros Zaccaria e con lui furono registrati centocinquanta maschi dei figlioli di Pat Moab Elioenai figliolo di Zeragia e con lui duecento maschi dei figlioli di Secania il figliolo Yahaziel e con lui trecento maschi dei figlioli di Adin Ebed figliolo di Jonathan e con lui cinquanta maschi dei figlioli di Elam Isaia figliolo di Attalia e con lui settanta maschi dei figlioli di Shefatia Zebadia figliolo di Micahel e con lui ottanta maschi dei figlioli di Joab Obadia figliolo di Jeiel e con lui duecentodiciotto maschi dei figlioli di Shelomit il figliolo di Iossifia e con lui centosessanta maschi dei figlioli di Bebai Zaccaria figliolo di Bebai e con lui ventotto maschi dei figlioli di Azagad Jonathan figliolo di Aracatan e con lui centodieci maschi dei figlioli di Adonicam gli ultimi dei quali questi sono i nomi Elifelet Jeiliel Shemania e con loro sessanta maschi e dei figlioli di Big Vai Utai e Zabud e con lui settanta maschi io li radunai presso al fiume che scorre verso Ahava e qui vi stemmo accampati tre giorni e avendo fatto la rassegna del popolo e dei sacerdoti non trovai fra loro alcun figliolo di Levi e allora feci chiamare i capi Eliezer Ariel Shemania El Natan Jarib El Natan Natan Zaccaria Meshulam e i dottori Yoarib e El Natan e ordinai loro ad andare dal capo Iddo che stava a Cassifia e posi loro in bocca le parole che dovevano dire a Iddo e a suo fratello che erano preposti al luogo di Cassifia perché si menassero degli uomini per fare il servizio della casa del nostro Dio e siccome la benefica mano del nostro Dio era su noi ci menarono Sherabia uomo intelligente dei figlioli di Mahili figliolo di Levi figliolo di Israele e con lui i suoi figlioli e i suoi fratelli in numero di diciotto Asrabia e con lui Isaia dei figlioli di Merari e i suoi fratelli e i suoi figlioli in numero di venti e dei netinei che Davide e i capi aveva messo al servizio delle viti duecentoventi netinei tutti quanti designati per nome ecco là presso al fiume Ahava io bandìo un digiuno per umilarci nel cospetto del nostro Dio per chiedergli un buon viaggio per noi per i nostri bambini e per tutto quello che ci apparteneva perché io mi vergognavo di chiedere al re una scorta armata e dei cavalieri per difendersi per strada dal nemico giacché avevamo detto al re la mano del nostro Dio assiste tutti quelli che lo cercano ma la sua potenza e la sua ira sono contro tutti quelli che la abbandonano così dice unammo e invocammo il nostro Dio a questo proposito ed egli ci esaudì allora io separai dodici dei capi sacerdoti Sherebia Hashabia e dieci dei loro fratelli e pensai loro dell'argento dell'oro gli utensili che erano l'offerta fatta per la casa del nostro Dio dal re dai suoi consiglieri dai suoi capi da tutti quelli di Israele che si trovano colà rimisi dunque nelle loro mani sei centocinquanta talenti d'argento degli utensili d'argento per il valore di cento talenti cento talenti d'oro venti coppe d'oro del valore di mille d'ariche due vasi di rame lucente finissimo prezioso come l'oro e dissi loro voi siete consacrati all'eterno questi utensili sono sacri e quest'argento e quest'oro sono un'offerta volontaria fatta all'eterno all'iddio dei vostri padri vigilati e costuditeli finché li pesiate in presenza dei capi sacerdoti e dei leviti e dei capi delle famiglie di Israele a Gerusalemme nelle camere della casa dell'eterno i sacerdoti e leviti dunque ricevettero pesato l'argento e l'oro e gli utensili per portarli a Gerusalemme nella casa del nostro Dio e noi ci partimmo dal fiume da Hava il dodicesimo giorno del primo mese per andare a Gerusalemme e la mano di Dio fu su di noi e ci liberò dalla mano del nemico e da ogni insidia durante il viaggio e arrivammo a Gerusalemme e dopo esserci riposati qui vi tre giorni e il quarto giorno pesammo nella casa del nostro Dio l'argento l'oro gli utensili che consegniamo al sacerdote Meremoth figliolo d'Uria con lui era Eleazar figliolo di Phineas e con loro erano i leviti Giosabat figliolo di Yeshua e Noadia figliolo di Bunni tutto fu contato e pesato e nello stesso tempo il peso di tutto fu messo per iscritto gli esuli tornati dalla cattività offerso in olocausti alle Dio di Israele dodici giovenchi per tutto Israele novantasei montoni settantasette agnelli e come sacrificio per il peccato dodici capri tutto questo in olocausto all'eterno e presentarono i decreti del re ai satrapi del re e ai governatori d'oltre il fiume i quali favoreggiavano il popolo e la casa di Dio Esdra capitolo nono or quando queste cose furono finite i capi si accostarono a me dicendo il popolo di Israele i sacerdoti e i leviti non si sono separati dai popoli di questi paesi ma si conformano nelle abominazioni dei cannei degli ittei dei ferasei dei ghebusei degli amuniti dei moabiti degli egiziani e degli amorei poiché hanno preso delle loro figliuole per sé e per i propri figliuoli e hanno mescolato la stirpe santa coi popoli di questi paesi e i capi e i magistrati sono stati i primi a commettere questa infedeltà quando io ebbi udito questo mi stracciai le vesti e il mantello mi strappai i capelli dalla testa e dalla barba e mi misi a sedere costernato allora tutti quelli che tremavano alle parole dell'idio di Israele si radunarono presso di me a motivo delle infedeltà di quelli che erano tornati dalla cattività e io rimasi così seduto e costernato fino al tempo dell'oblazione della sera e al momento dell'oblazione della sera malsai dalla mia umiliazione con le vesti e col mantello stracciati cadi in ginocchio stessi le mani verso l'eterno il mio Dio e dissi oh mio Dio io sono confuso e mi vergogno oh mio Dio ad alzare a te la mia faccia poiché le nostre iniquità si sono moltiplicate fino al di sopra del nostro capo e la nostra colpa è si grande che arriva al cielo dal tempo dei nostri padri fino ad oggi siamo stati grandemente colpevoli e a motivo delle nostre iniquità noi i nostri re i nostri sacerdoti siamo stati dati in mano dei re dei paesi stranieri in balia della spada dell'esilio della rapina e dell'opproprio come anche oggi si vede ed ora per un breve istante l'eterno il nostro Dio ci ha fatto grazia lasciandoci alcuni superstiti e concedendoci un asilo nel suo santo luogo al fin di illuminare gli occhi nostri e di darsi un po' di respiro in mezzo al nostro selvaggio poiché noi siamo schiavi ma il nostro Dio non ci ha abbandonati nel nostro selvaggio che anzi ha fatto sì che trovassimo benevolenza presso i re di Persia i quali ci hanno dato tanto respiro da poter rimettere in pie la casa del lettio nostro restaurarne le rovine e ci hanno concesso e ci hanno concesso un ricovero in Giuda ed in Gerusalemme ed ora o nostro Dio che dire noi dopo questo poiché noi abbiamo abbandonati i tuoi comandamenti quelli che ci desti per mezzo dei tuoi servi i profeti dicendo il paese nel quale entrate per prendere in possesso è un paese resso impuro dalle impurità dei popoli di questi paesi dalle abominazioni con le quali hanno riempito da un campo all'altro con le loro contaminazioni ordunque non date le vostre figliole loro figlioli e non prendete le loro figliole per i vostri figlioli e non cercate mai la loro prosperità nel loro benessere e così diventerete forti mangerete i migliori prodotti del paese e lo lascerete in retaggio perpetuo ai vostri figlioli ora dopo tutto quello che ci è avvenuto a motivo delle nostre azioni malvagie e delle nostre grandi colpe già che tu o nostro Dio ci hai puniti meno severamente di quanto le nostre iniquità avrebbero meritato e hai conservato di noi un residuo come questo torneremo noi di nuovo a violare i tuoi comandamenti e ad imparentarci coi popoli che commettano queste abominazioni l'ira tua non si infiammerebbe essa contro di noi sino a consumarci a non lasciar più né residuo né superstite o eterno Dio di Israele tu sei giusto e perciò noi siamo oggi ridotti ad un residuo di scampati ed eccoci dinanzi a te a riconoscere la nostra colpa poiché per cagione d'essa noi non potremmo sussistere nel tuo cospetto esdra capitolo decimo or mentre esdra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio si radunò intorno a lui una grandissima moltitudine di gente d'Israele uomini donne fanciulli e il popolo piangeva dirottamente allora Shekaniah figliuolo di Jeihel uno dei figliuoli di Elam prese a dire a Esdra noi siamo stati infedeli al nostro Dio sposando donne straniere prese dai popoli di questo paese non di meno rimane ancora a questo riguardo una speranza a Israele facciamo un patto con Dio impegniamoci a rimandare tutte queste donne e i figliuoli nati da esse come consigliano il mio Signore e quelli che tremano dinnanzi ai comandamenti del nostro Dio e facciasi quel che vuole la legge levati poiché questo è affar tuo e noi sarem teco fatti animo ed agisci allora Esdra si levò fece giurare ai capi dei sacerdoti delle viti e di tutto Israele che farebbero come era stato detto e quelli giurarono poi Esra si levò dinnanzi alla casa di Dio e andò nella camera di Ioannam figliuolo di Eliashib e come vi fu entrato non mangiò pane né beve acqua perché faceva cordoglio per l'infedeltà di quelli che erano stati in esilio e si bandì in Giuda e a Gerusalemme che tutti quelli della cattività si adunassero a Gerusalemme e che chiunque non venisse entro tre giorni seguendo il consiglio dei capi e degli anziani tutti i suoi beni gli sarebbero confiscati ed egli stesso sarebbe escluso dalla radunanza dei reduci della cattività così tutti gli uomini di Giuda e di Beniamino si adunarono a Gerusalemme entro i tre giorni era il ventesimo giorno del nono mese tutto il popolo stava sulla piazza della casa di Dio tremante per cagione di questa cosa e a causa della gran pioggia il sacerdote Esdra si levò e disse loro voi avete commesso un'infedeltà sposando donne straniere e avete accresciuta la colpa di Israele ma ora rendete omaggio all'Eterno all'Iddio dei vostri padri e fate quel che a Lui piace separatevi dai popoli di questo paese e dalle donne straniere allora tutta la radunanza rispose e disse ad alta voce sì dobbiamo fare come tu hai detto ma il popolo è in gran numero e il tempo è molto piovoso e non possiamo stare allo scoperto e questo non è affare d'un giorno o due poiché siamo stati numerosi a commettere questo peccato rimangono dunque qui i capi di tutta la radunanza e tutti quelli che nelle nostre città hanno sposato donne straniere vengano ai tempi determinati con gli anziani e i giudici d'ogni città affinché non sia rimossa da noi l'ardente ira del nostro Dio per queste infedeltà Jonatan figliolo di Azahel e Yatzia figliolo di Tikva appoggiati da Meshulam e dalle vita e Butai furono i soli ad opporsi a questo ma quei della cattività fecero a quel modo e furono scelti il sacerdote Esdra e alcuni capi famiglia secondo le loro casi patriarcali tutti designati per nome i quali cominciarono a tenere adunanza il primo giorno del decimo mese per esaminare i fatti il primo giorno del primo mese avevano finito quando concerneva tutti quelli che avevano sposato donne straniere tra i figlioli dei sacerdoti questi si trovarono che avevano sposato donne straniere dei figlioli di Eshua figliolo di Yotzadak e tra i figlioli Maaseia Eliaser Yarib e Gedalia i quali promisero dando la mano di mandar via le loro mogli e offrirono un montone come sacrificio per la loro colpa dei figlioli di Dimmer Annai Zebadia dei figlioli di Arin Maaseria Elia Shemaiia Iaiel e Uzukia dei figlioli di Paschur Elyonehai Maasehia Ishmael Natnaher Iosabad e Lassa dei Leviti Iosabad Shimei Kelaia detto anche Kelita Petahia Giuda e Eliezer dei Cantori Eliashib dei Portinai Shalom Telem e Uri e degli Israeliti dei figlioli di Parosh Ramia Itzia Malchia Mahihamin Elezia Alchia e Benahia dei figlioli di Elam Matania Zacharia Ieihel Abdi Jeromoth e Elia dei figlioli di Zatu Elio e Nai Eliashid Matania Jeromoth Sadat Aziza dei figlioli di Bebai Yonanan Anania Zebai Atlai dei figlioli di Bani Meshulam Maluk Adai Yashub Shehal Remot dei figlioli di Pat Mohab Adna Kela Benahia Mahasehia Matania Bet Salil Binui Manasse dei figlioli dei figlioli Arim Eliezer Issacia Alchia Shemaia Simeone Beniamino Maluk Shemaria dei figlioli di Ashum Matanai Matanai Atatta Zabadad Elifelet Jeremai Menasse Shimei dei figlioli di Banai Maadaei Amran Uel Benahia Bedia Kelehu Vania Meremoth Eliashib Matania Matanai Yasai Bani Minui Shemei Shelamia Natanam Adahia Mak Nabdai Sheshai Sherai Ezarel Shelamia Shemaria Shalum Amaria Giuseppe De figlioli di Nebo Yeiel Matithia Zabal Zibina Jadahai Yoahel Banaia tutti questi avevano preso delle moglie stranieri e veran di quelli che di queste moglie avevano avuto dei figlioli dirocki buenas di quelli nungent di quelli a che di